Il benvenuto al 2022 si darà rispettando alcuni accorgimenti necessari, visto l'arrivo della quarta ondata. Già nei giorni precedenti sono aumentati i controlli sul territorio nisseno e vietati i botti come da ordinanza sindacale. Un capodanno attento alle regole da seguire, ma di certo più libero rispetto a quello del 2020, quando tutto il paese era in zona rossa e c'era il coprifuoco. Mascherine FFP2 sono obbligatorie sempre e se il coronavirus spegne gli entusiasmi per lasciare il posto alla prudenza, rispettando tutte le regole previste si potrà tornare a casa a qualsiasi ora, la sera di San Silvestro. È importante che i comportamenti individuali siano adeguati, sempre massima attenzione a prudenza, mascherine, igiene e distanziamento, anche per il cenone familiare perché i cenoni a feste non si trasformino in potenziali focolai. Nessun festeggiamento in piazza, né concerti, né spettacoli come da indicazioni del governo, ma c'è il fantasma di quelli privati al chiuso. Con il decreto natale, sia in zona bianca che gialla, è d'obbligo il Green Pass rafforzato. E quindi quello che si ottiene con il vaccino o la guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi. La sera di San Silvestro i controlli delle forze dell'ordine verranno rafforzati anche nei ristoranti dove si può accedere solo con Super Green Pass. Per i cenoni in casa è opportuno riunirsi con vaccinati, arieggiare locali, igienizzarsi le mani, spesso e assolutamente non scambiare posate e bicchieri, augurandosi che tutto vada per il meglio.